Benvenute, benvenuti. Apriamo ora il cerchio di guarigione. Fai qualche respiro profondo, connettendoti all'energia del cerchio e a tutti coloro che vi stanno partecipando insieme a te. Ora se vuoi puoi tracciare nell'aria il simbolo di questo cerchio, mentre ripeti mentalmente il mantra Bishaija, che in sanscrito significa medicina o anche potere di guarigione. Bishaija Immagina di sedere con molti altri a formare un grande cerchio di guarigione. Bishaija 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 Bene Bishaija 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 Bishai 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 Puoi anche invitare intere situazioni immaginandole come scene all'interno di sfere luminose Allo stesso modo puoi invitare parti di te come un organo o un'emozione Inondandole di luce all'interno del cerchio O ancora puoi scegliere di immergerti tu stesso completamente nella vasca Ricevendo la guarigione da coloro che la stanno veicolando intorno a te Durante i prossimi dieci minuti Se lo desideri puoi alternare momenti in cui doni e momenti in cui ricevi E se dovessi distrarti torna a sentirti nel cerchio Percepisci la tua presenza, il tuo respiro e invia nuovamente energia Puoi anche ripetere il mantra Bishai già più volte Tornando a tracciare il simbolo per rinforzare l'intento di guarigione Percepisci la tua presenza, il tuo respiro e il tuo respiro Percepisci la tua presenza, il tuo respiro e il tuo respiro Percepisci la tua presenza, il tuo respiro e il tuo respiro Percepisci la tua presenza, il tuo respiro e il tuo respiro Percepisci la tua presenza, il tuo respiro e il tuo respiro Percepisci la tua presenza, il tuo respiro e il tuo respiro Percepisci la tua presenza, il tuo respiro e il tuo respiro Percepisci la tua presenza, il tuo respiro e il tuo respiro Percepisci la tua presenza, il tuo respiro e il tuo respiro Percepisci la tua presenza, il tuo respiro e il tuo respiro Percepisci la tua presenza, il tuo respiro e il tuo respiro Grazie a tutti. 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 Bene. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.